Ragazzi, questo è il nuovo negozio BlaBlaToys, a pari! E ora noi ci intrufuleremo là! Sono davvero curioso di sapere cosa c'è dentro, perché è un negozio enorme! Guardate, ragazzi! Ok, ragazzi, andiamo a nasconderci in fretta, perché molto presto il negozio chiuderà! Dai, 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 andiamo! Vengo anch'io, ragazzi, vengo! Ragazzi, ragazzi, dove state andando? Vogliamo scegliere rapidamente un regalo e tornare indietro! Prendiamo solo un giocattolo per mio figlio più piccolo e ce ne andiamo subito, ok? Ok, ragazzi, ma non fate tardi, perché presto chiudiamo! Sì, certo, certo, andiamo, andiamo! Ragazzi, ragazzi, dobbiamo trovare un posto dove nasconderci in fretta, va bene, ragazzi? Sì, è vero, andiamo! Sbrigiamoci a nasconderci, perché il negozio sta per chiudere! Ragazzi, so dove nascondermi! Guardate, qui ci sono delle belle macchine e io mi nasconderò qui sotto! Proprio sotto le macchine, vedete, ragazzi? Sì, vado laggiù! E... e chiudo! Dove posso nascondermi? Dove posso nascondermi? Oh, un'idea, ragazzi! Mi nascondo qui e speriamo che non mi notino... Ragazzi, sono all'ultimo piano e mi nascondo dietro questo nort! Ottimo! E ora vado qui! Bene! Sono entrato così e ora lo rimetto a posto! Io sono sicura che nessuno mi noterà! Later! E ora di chiudere il negozio! Gli ultimi clienti sono andati via! Ma gli ultimi clienti erano GL Show! Non è che si sono nascosti di nuovo nel negozio, eh? Ma ho detto loro di non farlo più! Andrò a controllare! Oh! Bellino! Oh mio Dio! Mi ha quasi notato! E ora devo guardare anche al piano inferiore, eh? Oh, cos'è quello? Oh, ora mi troverà! Vedo bene oppure no? Qui mi sembra storto! Adesso è perfetto! Ora è meglio andare a vedere all'ultimo piano! Non lascerò che GL Show si intruffli di nuovo al negozio! Per fortuna è andato in un altro piano! Quanti bei giocattoli! Se fossi di nuovo un bambino potrei giocare con tutti questi giocattoli! Vediamo che qui dove si trova il nerf! Ci sono molti angoli! Va bene! Devono essersene andati! I numeri sono nemmeno accolti! Ancora un po' e mi avrebbe trovato! Ottimo! Tempo di chiusura! Spengo tutte le luci! Oh, oggi sono stanco! Vado a riposare! Ragazzi, credo che Sotiris se ne sia andato! Perché le luci si sono spente! E ho anche sentito la porta a chiudersi! Andiamo ragazzi! Andiamo a vedere cosa fanno gli altri! Credo che Raffario abbia detto che sarebbe stato al primo piano! Raffario! Raffario! Dove sei? Opa! Stas! Perché le luci non si sono spente qui? Perché le luci si spengono automaticamente dopo un'ora su questo piano! Allora Stas! Ma siamo da soli qui! Sotiris se ne è andato! Sì, Raffario! Sotiris se ne è andato! Sì, baby! Andiamo a cercare Odisseo e ci diverteremo per bene qui, ragazzi! Raffario, credo che Odisseo sia all'ultimo piano, al terzo piano! Andiamoci subito! Sì, andiamo! Sì, andiamo! Oh, solo generali! Oh, Raffario! Guarda che macchine pazzesche che ci sono qui! Cosa c'è? Le macchine? Ho trovato qualcosa di meglio! Non lo so che cos'è quella roba nera! È un sottomarino con le auto! Avete capito? È forte! Raffario, non è niente! Guarda che gioco, ragazzi! Hot Wheels! Stas! Stai dicendo delle cavolate! Ragazzi, scrivete nei commenti quale gioco è migliore! Hot Wheels o questo sottomarino, ragazzi? Guardate! Penso che il sottomarino sia meglio! Bene, Raffario! Andiamo a cercare Odisseo! Odisseo! Aspetta, aspetta! Vieni qua! Vieni qua! Guardate com'è bello il furgone, ragazzi! Mi piace! Forse è meglio andare a cercare Odisseo! Ok, andiamo a cercare Odisseo, Raffario! Perché dici così? Sì, sono stato io a dire per primo che dovevamo andare a cercare Odisseo! Oh, Raffario, non fare lo sciocco! Forza, andiamo, andiamo! Forza, 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 andiamo, andiamo! Stas, guarda lì! Guarda che bei nerf che ci sono! Ma guarda lì! Sì! Sono fighi e enormi! Sì, sono fighi ed enormi! Sì, non dirlo! Sono così fighi! E c'è anche quello da cecchino! Guardate quante armi ci sono qui! Sei impazzito, Odisseo! Non farlo mai più, per favore! Perché sai che non ho 15 anni, capisci? Non ci può vedere, Raffario, è solo uno scherzo! Qual è il problema? Andiamo a giocare! Andiamo! Andiamo, andiamo! Sì, sì, aspetta, andiamo! Oh, ragazzi, dobbiamo accendere la luce di sotto! Perché si sono spente! Sì, sì, andiamo ad accenderle! Ok, stiamo scendo! Guardate, ragazzi, quanto è buio qua! Sì, sto smolto! Ragazzi, forza, 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 forza! Da questa parte, da questa parte! Qui, apri, apri! Ora, prendi i pulsanti! Ascolta, quali pulsanti premere? Quali pulsanti, lo sai? Non lo so, ma l'interruttura è di sicuro qui, Raffario! Ad essere sincero, non lo so nemmeno io! Premelo tutti, credo che funzionerà! Fantastico, ragazzi, fantastico! Ora possiamo fare quello che vogliamo! Sì, proprio così, andiamo! Siamo gli unici qua! Oh, Raffario, guarda quanti Funko Pop ci sono qui! Guarda qui, Odisseo, che macchina figa, la BMW! Ok, Raffario, lascia stare le macchine! Guarda questi Funko Pop! A dire il vero, mi piace di più questo, ok, Iron Man? È il mio preferito, giusto per farvelo sapere! Ragazzi, è il mio preferito, Batman! Il mio è migliore, Odisseo! No, è il mio! No, è il mio! No, è il mio! Ragazzi, scrivete nei commenti qual è il migliore, il mio o quello di Odisseo! Stas, tu che ne pensi? I tuoi Funko Pop sono così piccoli! Ne ho trovato uno molto più grande! Cosa? Dove sono, Stas? Seguite, mi dimostrerò! Forza, ragazzi, andiamo! Funko Pop mega! Ragazzi, potete trovare Funko Pop come questo solo da BlaBlaToys! Questo è sicuro! Guardate quanto è grande e figo il Funko Pop! Sì, è così grande! Che cos'è? Queste sono le nuove tazze del GL Army! Sono nostri, ragazzi, guardate! Guardate, siamo noi, GL Army! Ed ecco, Dimon e questo sono io, amici, Raffario! Sono così cool, così belli! E non dimenticate, ragazzi, che abbiamo anche i capellini! Guardate, sto indossando i capellini gel Army! E anche io! Chi ci vuole bene, di sicuro se li sarà già comprati! Inoltre, molto presto, c'eranno le nostre termo gel Army! Ci saranno anche i vestiti, le magliette! E anche un sacco di altre cose belle, ragazzi! Ovviamente li troverete solo nei negozi BlaBlaToys, Minidi e vari online! Ordinateli tutti! Online, online, troverete tutto, ragazzi! Solo GL Army! Ora andiamo a giocare! Wow, che belle auto che ci sono qui, ragazzi! Wow! Oh mio Dio! Che macchina fantastica! Adesso la prendo e mi faccio un bel giro! Vediamo se mi regge! Raffario, sei molto pesante, la romperai! Non preoccuparti, Odisseo, mai, mai, ok? E premiamo sull'acceleratore! Wow, andiamo, Stas, guarda! Raffario, attento a non investirci! Oh! 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 Ah! No, sono solo, Raffario, stai molto pericoloso! Sì, questa macchina è molto veloce! Eh, onestamente assomiglia ad una vera... È una Lamborghini! Raffario, ora ti faccio vedere come si guida, eh! Guarda! Così, così, e indietro! Guarda! Fermati! Vai! Gira, gira! Andiamo! È stato fantastico! Fallo di nuovo! Forza, forza, forza! Andiamo, ciao! Ragazzi, guardate com'è bello, anche su questo piano! Qui ci sono molti Playmobil! Sì! E Lego! Wow! Playmobil con i pirati! Wow! È molto, molto bello! Sì, Stas, è vero, è bellissimo! No! Lego con i pirati è più interessante del Playmobil! Ma cosa stai dicendo? Guardate, ragazzi, questo sembra più reale e più bello! Sembra reale, ma in realtà non lo è! Ragazzi, date un'occhiata e diteci cos'è meglio, un Playmobil o Lego? Quale, quale? Ma onestamente io non lo so! Questo è bello! E anche questo è bello! Penso che Playmobil sia più interessante! Forza, ragazzi! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo! Che cos'altro c'è? Uh! Oh, guarda, cosa c'è qui! Ecco il nuovo Laser X! Ed ecco qua, ragazzi, il mantello dell'invisibilità! Te lo metti addosso, ti fai una foto e diventi invisibile! Non so come sia possibile! Ottimo, Stas, se vuoi lo possiamo portare a casa e lo proviamo! Certo che sì, Odisseo! E tu prendi questo! Oh, forte! E naturalmente, ragazzi, naturalmente pagheremo, ragazzi! Non preoccupatevi! Lasceremo sicuramente dei soldi! Andiamo a giocare! E questo cosa fa? Spiegatemi un po', per favore! Allora, tu ti metti lo scudo! Sì! Anche l'altro si mette lo scudo e ci sono due Laser! Si spara il Laser e quando si colpisce l'altro cambia colore! Di cosa stai parlando? Di cosa stai parlando? Sei sicuro? Esattamente! In uno dei nostri video lo controlleremo, va bene? Sì! Anch'io voglio giocarci! È ottimo, è ottimo! Ragazzi, guardate cosa ho trovato qui! È un gioco un po' spaventoso, ma molto bello! Guardate questo! Premio sull'occhio! Welcome to Dino Island! Wow! Che cos'è questo? Ci sono 30 giocattoli qui dentro, ragazzi! Rompiamole e vediamo cosa c'è dentro! No, Raffario! Voglio che sia io a romperlo, non tu! No! Io romperò questa testa! Mi è piaciuta molto! No, ragazzi! Lo romperò io! Perché sono Stas, Papa! No, no! Sei uno scemo, Stas! Ragazzi, ho un'idea migliore! Qual è la tua idea, Odisseo? Ok, ragazzi! Giochiamo a calcio! Vince chi segna il primo gol! E la romperà! No, non posso giocare a calcio! Non mi piace molto! Raffario, tu fai il video e io gioco! Odisseo, ti faccio a pezzi! Prova, Stas! Prendi, eh! Dai, dai, dai! Forza, vai, vai! Oh, no! Andiamo! Dai, prendilo! Andiamo, ciao! Prendi, prendi! Odisseo, hai mancato due volte e non l'hai nemmeno capito! Dai, Stas! Adesso vai tu! Andiamo! Andiamo! Cos'è successo, Odisseo? Carzellino rosso! Carzellino rosso! Odisseo, ho preso la palla! Ma Cosmo, quale palla? Sei impazzito? È ovvio, ragazzi! Sono Ronaldo! See you! Ragazzi, non è giusto! Perché Stas ha fatto il follo! Mi fa male! Io non gioco più! Va bene, visto che non giochi, allora ho vinto io! Andiamo a spaccargli la testa a Stas! Sì, andiamo! Ragazzi, prendiamo la testa! Togliamo il nastro adesivo dal retro! Aspetta, prima premi sull'occhio! Welcome to Dino! Ho una strappa! Come si strappa? Aspetta, facci venire! Proprio qua, sul retro lo strappo! Forza, 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 forza! Oh! Ora togliamo via la maschera! Bene! Sì, 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 sì! E ora dobbiamo romperla! Che ne dite, lo colpisco con un pugno? Forza, con il pugno! Non si rompe! Probabilmente devo fare così con la testa! Cos'è quella testa? È un dinosaurio! Aspetta, aspetta, aspetta un attimo! Dinosauro! Non riesco! Gira, gira, forza, forza! Oh, guarda! Guardate! Qui c'era questo! L'ho rotta, ragazzi! Guardate, ci sono delle uova qui dentro! Uova! Quattro uova! Ok! Che cos'è questo, Stars? Ora guardiamo! Apriamo! E all'interno... Ecco! Delle figurine! Vediamo ora cosa c'è negli altri pacchetti! Probabilmente c'è una specie di scheletro qua dentro! Uuuuh! Wow! Ma credo che manchino alcuni pezzi, ragazzi! Sì, lo penso anch'io! Probabilmente li troveremo negli altri pacchetti! Qui c'è una parte diversa dalla testa, qui c'è una gamba e non so che cosa! Sì, e poi fa lo stesso! Con tutti questi pezzi si può assemblare un intero dinosauro! È fantastico! Sì, che bello, che bello! Va bene, ragazzi! Dunque, credo sia l'ora di tornare a casa! Sì, ragazzi! Ci siamo divertiti molto a Blaulatoi! Semplicemente fantastico! E non dimenticate di iscrivervi per vedere altri video folli come questo! Dobbiamo prendere degli altri cappellini da regalare ai nostri amici, ok, Stars? Sì, Raffaele, prima da darci e lasceremo i soldi perché siamo persone oneste! Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi, promette sulla campanella per non perdere nessun video! E ciao!